In compagnia di Luca Gastaldi, giornalista e scrittore, benvenuto Luca, bentornato anzi su Motoritv, ci troviamo qui al tuo stand di Automotore Tro per presentare il tuo nuovo libro scritto insieme all'ingegner Limone dedicato a Giorgio Pianto, una vita per le corse e qui proprio allo stand avete portato tre modelli di vetture che sono appunto dedicate alla sua carriera sportiva. Raccontaci tu un po' questa carriera, cosa ha significato anche per te? Beh innanzitutto Giorgio Pianta si meritava un libro perché è stato un personaggio che ha dato tantissimo per l'automobilismo sportivo italiano, un pilota che ha avuto una passione incontenibile per l'automobile e per le competizioni e che doveva essere celebrato, finalmente siamo riusciti a farlo e sono veramente orgoglioso di aver lavorato di nuovo con l'ingegner Limone che ha lavorato al fianco di Giorgio Pianta per tanti anni. E qui ad Automotore Tro abbiamo, presentando il libro, abbiamo voluto celebrare anche tre periodi distinti della sua carriera e quindi abbiamo un Giorgio Pianta pilota, abbiamo portato una Opel GT Gruppo 4 realizzata dal torinese Conrero e con la quale Giorgio Pianta aveva disputato la Targa Florio nel 1972 insieme a Giorgio Schoen. E poi abbiamo rappresentato un Giorgio Pianta collaudatore con un'incredibile lancia trevi bimotore inventata, si può proprio dire così, da Giorgio Pianta perché si voleva iniziare lo sviluppo della trazione integrale che all'epoca nel gruppo Fiat non c'era proprio come esperienza a parte la Panda 4x4 o la Campagnola. E quindi con questa trevi bimotore improponibile Giorgio Pianta ha fatto i primi chilometri con una trazione integrale. E infine abbiamo il Giorgio Pianta team manager come epilogo di questa ascesa nel mondo dell'automobilismo sportivo e lo abbiamo così celebrato, lo celebriamo con una 155 GTA Super Turismo che ha vinto il campionato italiano nel 1992, aprendo di fatto la carriera sportiva della 155 che successivamente si è imposta in uno straordinario campionato DTM tedesco nel 1993 e poi ancora più incredibile nel BTCC inglese nel 1994. Ecco, tre anni di vittorie in campionati internazionali riportando in auge un marchio Alfa Romeo che ha sempre puntato sulla sportività. C'è qualche aneddoto particolare che hai scovato realizzando questo libro sulla carriera di Giorgio Pianta? Ce ne sono tantissimi, forse il più simpatico risale al Rally di Monte Carlo del 1965. Intanto c'è da dire che Giorgio Pianta nella sua carriera di pilota ha guidato qualsiasi vettura, veramente dalla Prince alla Ferrari. E proprio con una Ferrari, appunto, è questo episodio del Monte Carlo 65 perché proprio la Ferrari di Maranello gli aveva affidato una 275 GTB, una macchina, una Gran Turismo bellissima, proprio per portare a termine il Rally di Monte Carlo, per dimostrare, perché il cavallino voleva dimostrare che le Ferrari potevano essere guidate anche su strada, su strada normale, potevano essere performanti anche in un Rally come quello di Monte Carlo. E quindi gli hanno affidato la vettura, gli hanno affidato un collaudatore Ferrari come navigatore, come copilota, soltanto che questo copilota, cioè, se l'è vista brutta, nel senso che non ha retto alle emozioni di un rally, probabilmente, e a un certo punto è sceso dalla macchina, ha buttato le chiavi della macchina nella neve e ha detto, basta, io non ce la faccio più. E poi, insomma, questo ritiro è stato sottolineato come una rottura meccanica, invece era proprio questo navigatore che non riusciva più a reggere le emozioni di un rally. Questo è così esemplificativo di una carriera incredibile, di un pianta pilota che veramente ha corso con qualsiasi cosa.